Ciao ragazze e ciao ragazzi Allora, sì, sono ancora sistemata in questo modo ma ho ancora un quarto d'ora di tempo prima di scendere e portare a me lì e a pare là Non se ne è accorta Ne voglio approfittare per registrare questo video recensione che ho in programma, anzi ne ho diversi di video recensioni in programma da un bel po', non ho avuto modo di poterli fare prima In questo video recensione voglio recensire quattro prodotti di make-up Partiamo subito Ultima cosa, giù nell'info box c'è la lista completa dei prodotti che vi sto per recensire Se ti piacciono ovviamente i miei video recensione ti invito a mettere un po' a licenso a questo video e se non vuoi perderti i prossimi video c'è sempre il tastino dell'iscrizione Il primo prodotto di cui voglio parlare è questo prodotto del Dr. Pierre Richard o Richard, non so È la base palpebre livigante 7 ml di prodotto Tra le basi make-up forse quella con la confezione più piccolina Però di tutto rispetto è un grandissimo prodotto Questa è la confezione Ha il beccuccio in questo modo Questo è il prodotto Lascia sulla palpebra questa sensazione molto setosa Fa aggrappare benissimo le matite, gli ombretti Fa risaltare ancora di più gli ombretti che vai ad applicare sulla palpebra Non crea la linea del crease Non crea la linea del crease Forse tra le ultime basi ombretti che ho utilizzato negli ultimi anni è la migliore Mi piace tantissimo quella che fece Clio con Pupa tantissimi anni fa Poi le successive che ho utilizzato Quella di Debbie e quella di Mesauda di Otteribili Proprio Otteribili non ne volevo più sentire parlare Di basi A un certo punto le utilizzavo ma solo mettevo un correttore pur di poterle finire Quando poi ho preso in mano questo prodotto Oddio, questa è una base mi sono detta Finalmente dopo anni ho una base ombretto Veramente come si deve Un prodotto che poco fa aggrappare tantissimo l'ombretto Esalta i colori Modifica e corregge anche leggermente le discromie della palpebra Perché è un color nude Mi piace anche nella parte sotto Quando voglio sfumare sia le matite che gli ombretti Quindi le vado ad appoggiare anche sotto Che dire, è perfetta Non ho altri aggettivi È perfetta Poi il secondo prodotto di cui voglio parlare è questa matita Labbra della linea Formula Pura di Deborah La matita è la numero 02 Un nude rosato caldo Questo è il colore Questa è la matita È una matita molto morbida Utilizzata da sola Lascia questo effetto nudo rosato Che illumina molto l'incarnato Non tira tantissimo Quindi spesso e volentieri la utilizzo anche come rossetto nudo su tutte le labbra Al massimo eventualmente un po' di burro cacao O se è proprio il gloss Ma tante volte per un effetto molto naturale Perché non è né super opaca né scimmerina Lascio così e non mi tira le labbra Mi piace tantissimo Come base per il rossetto è molto morbido È molto morbida Quindi non è super secca E il rossetto si stende Lo potete vedere anche ora sulle mie labbra Molto bene E non fa pastrocchio Perché se le matite sono troppo morbide Si rischia il pastrocchio Se di contro sono troppo dure Il rossetto non riesce a scivolare bene Non si fonde bene E si separano i due componenti Praticamente ti ritrovi il rossetto qua E la matita sulle labbra Come bordatura del rossetto Quindi non come base Ma semplicemente come linea È efficace Borda benissimo Non mi sono andati a passeggio Rossetti pericolosi Come quello rosso di Catrice Vi lascio la recensione di quel rossetto Giù nell'info box Quel rossetto anche a chi non ha Le rughettine di espressione intorno alle labbra Straborda tutto È bellissimo Ma come straborda quel rossetto Non ho visto strabordare nessun rossetto in vita mia Come base invece per le versante lucida labbra Non fa aggrappare benissimo Per lo stesso effetto Cioè essendo troppo morbido Il gloss va a passeggio Proprio l'effetto contrario Per un gloss è sempre meglio Una matita più secca Di modo tale che il gloss essendo morbido Si miscelano bene Invece questo essendo una matita troppo morbida Il gloss va a passeggio Però di contro Come bordatura di gloss Mi è piaciuta molto Perché il gloss che ovviamente Di natura va a passeggio Non si è mosso dalla sua bordatura Quindi è una matita che mi è piaciuta molto Veramente ottima La linea Formula Puro di Deborah Mi sta piacendo tantissimo Avevo provato Mascara Se non erro la matita occhi Se non sbaglio Cosa più? Non mi ricordo Lo smalto? Lo smalto forse Qualcosa del genere Mi piace veramente tanto Altra matita Questa però per gli occhi È della Flormar Si chiama Ultra Black Eliner Keep Keep and cool Eccola qua È una matita nera opaca Che Dio ce ne scansi proprio È morbidissima Nerissima Ha tantissimi pro L'unico contro che mi viene da dire È che se non fissata Con la matita Con un ombretto nero Con una cipia La matita Quando la metti qua sotto Dopo pochissimo Entra nelle righette Di espressione del contorno occhi Ma ovviamente dopo pochissimo Non so ora In che stato sia Anche perché ho messo Poi di cipia E niente di più Nel giro di poche ore Mi segnerà tutto Tutto La parte di sotto Però scrive benissimo All'interno dell'occhio Rimane bene All'interno dell'occhio Essendo così morbida È facilissimo Fare una base Per lo smoky Lascia un colorino Colorino Non colorino Ormai si sta già Grappando Però lascia un Grigiolino Verdognolo Non so se si vede E Aiuta tantissimo A fare una buona base Per gli ombretti Ora si è già seccata Sulla mano Però Sfumata velocemente È ottimale L'unica pecca È che Solo nella parte di sotto Non si fissa Perché è troppo a contatto Con L'occhio Che è una parte calda Si scioglie E Amen Come dire Sulla palpebra mobile Superiore Mi piace Perché seccandosi Non va a passeggio Quindi è quasi Un eyeliner opaco Ed è molto buono L'ultimo prodotto Per questo video Recensione di make up È questo Sample Questo campioncino Di Lancome Questo è il fondotinta Il ten miracle Miracle Dove essere in francese I think yes I don't know Un correttore Dell'incarnato Un perfezionatore Di pelle No L'ho trovato Molto pesante Non si settava Neanche sotto tortura Neanche smettendo la scipria Rimaneva sempre In superficie Per poterlo considerare Un Perfezionatore di pelle Andava messo Veramente Una puntina così E tirato tantissimo Ma a quel punto Non mi correggeva nulla Neanche rossore Intorno al naso Fortunatamente Avevo un campioncino E quindi L'ho potuto provare Non sono incappata In un errore D'acquisto Perché comunque Lancome Non costa due lire Parliamoci chiaro Non mi è piaciuto Per niente Veramente È una cosa terrificante In questo periodo Che non ho un fondotinta Che ho finito Tutti i campioncini Tutti i fondotinta Sto utilizzando Un correttore liquido Della L'Oreal Se non erro Se mi ricordo Vi lascio il link giù Quel correttore Utilizzato come fondotinta È sfumato con L'aiutato a sfumare Con la spugnetta In silicone Umida 10.000 volte Guardate qua 10.000 volte Meglio rispetto A un fondotinta Perfezionatore di pelle Non voglio dire Null'altro Perché altrimenti Mi arrabbio Ok Per oggi Il video recensione Finisce qui Io spero Che queste recensioni Ti siano state utili Se ti sono state utili Ovviamente Ti invito a mettere Un pollice in su A questo video Se non vuoi perdere I miei prossimi video Giù nell'info box E qui nell'ultima schermata Trovi il tastino Dell'escrizione Ti invito a prenderlo Io nulla Ti ringrazio Per avermi aperta E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ragazze Ciao ragazzi In gamba